Buongiorno a tutti gli amici delle case naturali ad alte prestazioni. Oggi mi trovo in cantiere a Roncegno e abbiamo appena ultimato la posa di questa bellissima casa su un piano di circa 120 metri quadri, interamente isolata con le balle di paglia. Ecco qui, entriamo all'interno, appena entrati si può percepire già il profumo di legno. Questa è la parete in balle di paglia col suo bel pannello di legno dove qui sopra poi andremo a posizionare la controparete in canna, gli impianti e poi l'intonaco in argilla. Questa è come si presenta la casa. Praticamente lì abbiamo il soggiorno, lì metteremo al centro la stufa a legno, ad accumulo. Questo è il disimpegno per andare in bagno e nel garage qui dietro. E qui ci saranno le due camere, una da due e, cosa non da poco, una bellissima vista delle montagne qui di fronte. Perciò qui il committente ogni mattina si sveglierà e farà colazione con le cime innevate come ci sono adesso. Ecco, questa è la cucina e qui fuori creeremo il terrazzo per la colazione. Qui dietro invece abbiamo il garage. Eccolo qui, il garage. Questa è una parete contro terra con la guaina e il trenaggio in modo da portare via l'acqua della montagna e la parte laterale della casa. Qui sotto abbiamo l'isolamento in vetro cellulare. E poi qui verranno messi gli impianti necessari per far funzionare questa casa. L'impiantistica è solamente della parte di riscaldamento, solamente fatta con una stufa ad accumulo che sarà messa qui. Perciò questa casa la possiamo definire una casa stufa. Ok, per oggi è tutto. Ci vediamo qui più avanti. Ti ricordo che il sito per vedere le case ad alte prestazioni la trovi su edificiidipaglitalia.com Ciao!